Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Five Night at Freddy's Signori, siamo tornati perché già avevo fatto qualche video in cui mi ero abbastanza, come posso dire, cagato sotto E l'avevo messo un attimino da parte, però a grande richiesta torno un altro video per far contenti tutti quanti Signori, allora però prima di partire col video e cagarci in mano E io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suoi genti e per il supporto Vi ricordo di iscrivervi al canale e di fare un salto sul secondo canale, mi trovate come Maullo941bis Vi ricordo di seguirmi sui social, dove appunto tramite social sia Instagram che su Facebook vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live Di solito mi trovate ogni sera alle 21 tranne il sabato E poi date un'occhiata ai link in descrizione per rimanere sempre collegati con il canale Detto questo signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video Ok, una cosa che mi sono dimenticato di dirvi è buona domenica signori, buona domenica a tutti voi E niente, basta così Allora, ripartiamo con un new game signori Il nostro rischio e pericolo è perfetto Dico io Perché devo fare questi giochi? Non li sopporto i giochi horror signori, non li sopporto E va bene Vediamo un attimino Prima notte Allora, il mio record è sono Cioè io sono riuscito semplicemente a superare sempre la prima notte La prima notte La seconda Mi ammazzano subito Vediamo se almeno oggi riusciamo a recuperare, a superare anche la prima notte Come è successo Ok La cosa è gravissima Press, hold, ok No, io non ricordo assolutamente nulla Quindi con questo metto la maschera Con questo alzo il computer Perfetto Destra Luce di qua Luce di qua Ok E dove avere una torcia Se non ricordo male Light Come usa Control Press Control Ok Ok Perfetto Ho delle rimembranze Se non ricordo male Dove esserci anche un Carry on Ok, la torcia la posso usare anche qui Perfetto Però poi mi si scarica la batteria Ok Aspetta Qui c'è l'uomo palloncino Perfetto Gli altri non stanno Click Ok Ancora non è partito Ancora ci sta quello che sta a parlare Ma che vuoi Ma che vuole questo Come si fa a star zitto Fate passare questa notte velocemente signori Aiuto Ancora parla Ma che vuoi Stai zitto Stai zitto Non mi serve a nulla Non capisco niente di quello che sto dicendo Questi già tra un po' si muovono Dove sta il carry on? Il carry on sta qua Ok Ho già un'ora è passata Zitti zitti che già un'ora è passata Questi sono ancora tutti e tre qua Sì Ok Qua c'è nessuno No Va bene Ok Nei condotti Condotti liberi Perfetto Per ora sembra tutto abbastanza tranquillo Signori E questa è una cosa che mi fa abbastanza paura Ovviamente sì Questi sono ancora tutti e tre qua Il carry on funziona Va bene Davanti a noi tutto tranquillo Luce destra a posto Luce sinistra a posto Ma che vuole questo? Ancora che parla Stai zitto Ancora che parla Ancora che parla Un'ora siamo sopravvissuti signori Questa è tanta roba Doveva arrivare fino alle 5 del mattino La cosa non è per niente facile Questi sono ancora tutti e tre qua Qui non c'è niente di particolare Il carry on Dove sta il carry on? Il carry on va bene Questo è vuoto Questo è vuoto Dagli così Qui No? Ok Ok Tutto abbastanza Tutto troppo tranquillo signori Ecco questa è una cosa che Già mi mette Già sono le due Ottimo Ecco Il primo già se n'è andato Ma porca Di una paletta Ambria Dove sta quello? Dove sta? No è qua No è qua È tornato Pensavo se ne fosse andato No è tornato Forse l'abbiamo L'abbiamo sgamato Quando se ne stava andando E si è sentito in colpa Il carry on Il carry on No 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 Il carry on tutta la vita Carica 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 Come se non c'erano domani Carica 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 Calma Ecco ora se n'è andato Signori Ora sono cavoli Dove se n'è andato Il nostro amico Eccolo lì Che ci fa la guada No no lui è lì Ci manca il coniglio Dove sta il coniglio Abbiamo perso Un coniglio Signori Abbiamo perso Un coniglio Davanti a noi No Qui per caso Ci fa bubusette No ma là Non l'ho visto Dove sta il coniglio No Che sta il carry on Però va troppo veloce Signori Porca di una paletta Ambriaca No Se ne è andato pure l'altro No Se ne sono andati tutti e tre Se ne sono andati tutti e tre Allora uno è là sotto Ok Gli altri Qui Non c'è nessuno Qui non vedo niente Qui non vedo Ok Questo si sta infilando nel condotto Si sta infilando nel condotto E l'altro dove sta Me ne manca uno Signori Me ne manca uno Carry on Carry on Carry on Carry on Carry on Se no ci manca pure Sono le tre Signori Dai dai Devo resistere solamente due ore Il grosso è fatto Devo resistere solamente due ore Dai dai Carica tutto Carica tutto Carica tutto Ok Davanti a noi c'è nessuno No Qui c'è nessuno No Qui c'è nessuno No Ok Do stanno Do stanno Do stanno Quello là non c'è più Quello là non c'è più No Qua se ne sono andati tutti Questa cosa non è per niente buona Sono le tre Dai 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 Dove stai Dove siete Mannaggia le vostre sorelle Dove siete Dove siete Nel condotto Nel condotto Vi ho visti a tutte e due Siete lì Siete lì Siete lì Siete lì Vi ho visti tutte e due Nel condotto Ecco il primo Occhio 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 Il coniglio Aia 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 Ok Il coniglio l'abbiamo superato Dovrebbe arrivare anche a Locchetta Non mi chiedete come si chiamano signori Perché non me lo ricordo Non mi chiedete i nomi di come si chiamano Perché non me ne ricordo Il carillon Il carillon Porca miseria Il carillon Il carillon Arrivo Arrivo Carico Carica 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 Quella ancora qua No Quella ancora qua Porca Dai Dai Esci 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 Anatroccola Brutta Brutta Anatroccola Esci Dai 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 Esci 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 No Di nuovo Si sta scaricando Ma porca Ma quanto dura Sto cazzarolo di coso No 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 Penso che siamo morti Signori Penso Sono le 4 Sono le 4 Potremmo aver superato la prima notte Dai 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 Caricalo più possibile Carico più possibile Carico più possibile Carica più possibile Così carillon non ci rompe le scato Questa sta ancora qua No Questa non sta più lì Quindi mi sa che sta arrivando qui No Di fronte a noi non c'è nessuno Sono le 5 Signori Dove stanno tutti Dove stanno tutti Che Sono spariti tutti Dove sono? Dove sono? Dove sono? Dove sono signori? Sono le 5 Dai 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 Carica 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 Cala questo No 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 La torta te la tieni tu No E il coniglio Ce l'abbiamo fatta Ma ammazza Ce l'abbiamo fatta Mamma mia Come abbiamo fregato il coniglio Come abbiamo fregato il coniglio Quella sta ancora là No Lì non c'è nessuno Qui non c'è nessuno Ok Riusciamo a superare la prima notte Ti prego La prima notte Non chiedo assai La prima notte Io ho paura di... No 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 È successo qualcosa È successo qualcosa Da questa cosa non va bene Sono le 5 Quando passa la prima notte? Porca di una paletta ambriaca Quando? Guarda che simpatico Non ti voglio vedere Vattene via Vattene via Faccio la luce a tutti Faccio la luce a tutti Tenetevi annà Tenetevi annà No 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 Porca miseria Siamo fin No No Pure l'orso No 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 Signori No 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 Troppa Troppa cacciara Troppa cacciara Tro... 5 Dai così Signori Mamma mia La prima notte è andata Porca miseria Dai Dai La prima notte è andata abbastanza bene Col cavolo che mi faccio pure la seconda No 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 signori allora io vi ringrazio per guardare questo video Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per i supporti Se nel caso voleste vedere anche altri episodi e quindi dalla seconda notte in voi Cosa che non vi porto già ve lo dico a prescindere E fatemelo solamente nei commenti Detto questo una buona domenica a tutti Grazie ancora Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto Bella raga Ciao Allo allo Ciao caro